Associazione Fossatesi nel mondo, ne parliamo con il Presidente Mimmo Pellecano, intanto il motivo di questa presenza qui questa sera? Noi siamo qui su Melito perché siamo tra i promotori del Presidio di Libera, l'Associazione Fossatesi nel mondo ormai è entrata nel contatto, è uscita dal suo isolamento della montagna e si è avvicinato a tutte le realtà che ci sono nella zona, specialmente su Melito, su Saline, su Lazzaro e noi siamo tra le associazioni promotrici della fondazione di un Presidio di Libera qui a Melito e speriamo anche nel comune di Montebello Ionico. Ormai sono molti anni, quasi 20, se non di più. No, che ci siamo noi sono appena 7, caro Mimmo, e in 7 anni ne abbiamo fatto di strada, strada che ci riempie di orgoglio per i risultati ottenuti, per l'impegno nostro personale, per l'impegno dei nostri soci, che siamo sempre in giro e promotori di attività molto impegnate nel sociale, molto impegnate nel rispetto dell'ambiente, no carbone, terzo settore, volontariato, campi estivi con i borghi solidari. Ormai è una realtà consolidata nel tempo. Le difficoltà non mancano, ma con la capabilità e la tenacia si possono fare grandi cose. Sì, tu mi conosci bene, noi siamo testatura.